Ciao! Vabbè, ma potremmo stare anche più in qua, eh? Ma dove ci sono i frigos? Ma che spettacolo, eh! Ma cos'è questa meraviglia? Ma cos'è? stupenda comunque chi ha comprato il calendario la vede anche sul calendario vedi che il nero opaco sta bene non lo so però fa un po' profumo ma nella mia spessa marmita la mia spessa marmita lo sento io ho anche la parcheggia lì non ho parole non hai parole se ci sta sotto la pollo porca loca buonasera caro bene bene oh è tornato dalle vacanze tornato dalle vacanze buonasera 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 mi hanno regato davvero un gran sorriso i motori buonasera buonasera